Cielo Beato! Temevamo che il nostro mentore si fosse perso fra i vizi della grande città. Mi accontento dei miei divizi. Grazie. Dunque, che cosa hai in mente, Ezio? Dimmi di più dei Templari. Li chiamate Bizantini. Tuttavia l'impero bizantino è stato abbattuto 60 anni fa. Questi uomini sono gli ultimi rimasti legati alla causa dell'ultimo imperatore, Costantino XI. Chi li guidi adesso, però, non so dirlo. Capisco. Immagino stia a me scoprirlo. Ezio, dov'è la tua lama uncinata? Lama uncinata? Non la conosci? La porto da quando sono nato. Mostrami come funziona. Oh! 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 Pensa alla lama uccinata come un'estensione di te stesso, Ezio. Presto, dobbiamo spregarci. Grazie. 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 Credi che non posso farcela? Non ho neanche sudato. Qui, presto. Qui, presto. Guarda e impara, Ezio. Lo chiamiamo aggancio e fuga. Corri verso l'avversario e appena lo raggiungi, usa la lama uncinata per superarlo Corri verso l'avversario e appena lo raggiungi, usa la lama uncinata per superarlo Corri verso l'avversario e appena lo raggiungi, usa la lama uncinata per superarlo